L'Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli, sito UNESCO, organismo presieduto dalla consigliera comunale Elena Coccia, ha organizzato una giornata di studio oggi nella Sala dell'Azzaretto dell'Exospedale della Pace in via Tribunali, sul tema antico e contemporaneo, aspetti e temi di una futura città metropolitana, un modo per soffermarsi su molti degli argomenti di attualità legati alle prospettive offerte all'urbanistica e dalla programmazione del territorio, dall'ormai imminente riformulazione amministrativa della città metropolitana. Penso che sia la prima volta, e questo è molto importante, in cui ci si occupa di centro storico all'interno della città metropolitana. Se si è discusso troppo poco di città metropolitana, di centro storico, che è un nodo delicato, importante, che richiede una visione decisa, non si è quasi discusso. Per questo è importantissima questa iniziativa. Il centro storico non è fatto solo di chiese, di palazzi e di monumenti, ma è fatto soprattutto di persone. Ed è per questo che oggi abbiamo, accanto alla parte monumentale, abbiamo inserito anche il discorso sulla scuola e sulla sanità. Riteniamo che il centro storico di Napoli sia una delle opportunità maggiori della nostra città. Deve essere qualcosa che si irraggia, che si irraggia anche nella città metropolitana futura, che non diventi, che non sia la periferia della città di Napoli, ma sia la città di Napoli. Sono stati affrontati anche i temi della democrazia partecipata, con i nuovi modelli di governance e di ruolo dell'associazione di territorio nel rapporto con le istituzioni, con il loro intervento nel ruolo propositivo all'interno del processo decisionale. Forse la cosa più bella di questa città, con tutti i problemi che ha, è che è rimasta umana, complessivamente è rimasta umana. Cioè nel senso che i luoghi di questa città sono intrisi di umanità. Allora noi dobbiamo fare in modo che il centro storico, il grande progetto UNESCO, non sia solo l'opera con cui meritoriamente noi sistemiamo una chiesa, una facciata o mettiamo maggiormente ovviamente in sicurezza il nostro patrimonio storico dell'umanità, ma anche probabilmente di migliorare quella che è l'umanizzazione del nostro centro storico.